La fornitura idrica a Gela può continuare nelle ore notturne. Il TAR di Palermo, Tribunale Amministrativo Regionale, ha bocciato il provvedimento emesso qualche settimana dietro dal sindaco Domenico Messinese, nel quale si imponeva a Caltacqua, società che gestisce il servizio idrico in provincia, di non fornire l'acqua alla notte ma in orari diurni. Il primo cittadino aveva firmato l'ordinanza in merito al fatto che, erogando l'acqua nelle ore notturne, si obbligavano gli utenti ad azionare i sistemi di accumulo in orari decisamente poco agevoli. I giudici però, come dicevamo, hanno bocciato il provvedimento comunale. Al TAR si erano rivolti manager della società italo-spagnola. Per i magistrati, che hanno colto le richieste arrivate dai legali dell'azienda, quell'ordinanza non sarebbe giustificata dall'esigenza di tutelare il bene pubblico con efficacia e immediatezza, al punto da non consentire l'utilizzo dei mezzi ordinari offerti dall'ordinamento. Inoltre, i magistrati amministrativi sottolineano che c'è stato un eccesso di potere da parte dell'amministrazione comunale, perché impone al soggetto che gestisce le reti idriche una condotta non prevista dagli atti che regolano il rapporto con lo stesso e contraddittoria con essi, senza adeguata motivazione e istruttoria presupposta. Sempre la stessa caltacqua si è rivolta al TAR per annullare un'altra ordinanza emessa dal sindaco, cioè quella che prevedeva che fosse la stessa società con propri autobotti a rifornire le zone non coperte dalla rete idrica. Su questo punto i giudici non si sono ancora espressi. Già subito dopo l'emissione dell'ordinanza del sindaco, Caltacqua aveva detto no, ritenendo che non c'erano le condizioni per l'emissione di una ordinanza condincibile e urgente. Per la stessa Caltacqua, quanto ordinato dal sindaco, rappresentava un intervento nel rapporto contrattuale gestore-utente al quale il comune è estraneo. Per la società italo-spagnola, la distribuzione nelle ore notturne è quella che garantisce alla luce delle condizioni attuali della rete idrica l'erogazione in tutte le zone della città. Se l'ordinanza fosse stata applicata, riferirono i vertici di Caltacqua, in alcune zone di gelo non poteva essere garantita la fornitura idrica.